Ben amici, oggi saliamo a bordo dell'Italmar Walkaround 19 Plus, uno scafo di 19 piedi con una larghezza di 2,30 metri e motorizzabile anche senza patente. Noi adesso ci apprezziamo effettuare la passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento e voi come sempre ricordatevi di lasciare un like a questo video e commentare con la vostra opinione. Scopriamolo insieme! A poppa troviamo due plancette simmetriche e bilaterali separate dalla vasca di installazione del motore. Il motore può andare da una potenza minima di 40 cavalli essendo una 19 piedi fino ad arrivare a un massimo di 115. La scaletta di risalita è sul lato di dritta e qui c'è una comodissima maniglia per aiutarci a uscire dall'acqua. L'accesso è esclusivo dal lato di dritta e come potete vedere c'è questa scanalatura che permette di avere opzionalmente una prolunga perché il divanetto è in configurazione standard lineare come potete vedere e in basso c'è il gavone tecnico dove poter montare gli impianti, le batterie e il serbatoio d'acqua dolce. Il pozzetto è piuttosto ampio per la sua categoria perché la saluta è spostata sul lato di dritta e in questo modo si crea un ampio passaggio. Opzionalmente è possibile avere la predisposizione con il foro per poter installare il tavolino e quindi avere un'unica grande dinette di poppa. La seduta ha uno schienale molto particolare perché questa forma C che potete vedere grazie a questi fori può essere sollevato e rovesciato in questo modo si può creare un'ulteriore seduta sulla dinette poppiera che troviamo qui. In questo allestimento è presente anche il cucinino esterno quindi ribaltando la seduta è possibile avere il fornello a gas e un piccolo lavello e in basso c'è anche un gavone stagno. La plancia è leggermente spostata sul lato di dritta e trova il timone al centro mentre in questo allestimento è tutto libero come potete vedere perché lascia totale spazio alla personalizzazione dell'armatore. Sul lato di dritta invece c'è la base dove potrei installare la manetta. Ci sono i gradini da un lato e dall'altro quindi è possibile passare a prua da entrambi i lati e c'è una comoda battagliola oltre al tubolare in acciaio che segue il profilo del parabrezza per darci una salda presa e passare a prua senza difficoltà. Prua che è davvero immensa guardate qui tutta rivestita di cuscini ovviamente tappezzeria con un tessuto tecnico e imbottitura a ciavola chiusa con uno strato di gomma piuma. C'è il cuscino che può essere rimosso per dare spazio al passo d'uomo quindi avere luminosità all'interno e infine troviamo il gavone dell'ancora. Il gavone dell'ancora che è a ribalta in questo caso e c'è già la predisposizione per il vericello con il supporto mito resina e gavone di ispezione della catena. L'ingresso in cabina è dal lato sinistro della console e vediamo che c'è un letto matrimoniale con la prima porzione sopraelevata per dare maggior spazio e poi si trova al di sotto del prendisole. Sono presenti due blow da un lato e dall'altro per assicurare la reazione oltre al passo d'uomo che come abbiamo visto a prua ci permette quindi di ampliare notevolmente la reazione. C'è un ulteriore box qui presente perché opzionalmente è possibile installare un WC e quindi essere indipendenti dalla banchina grazie alla presenza anche del fornello esterno. Conclude l'allestimento qui in cabina questo mobiletto dove poter stivare gli oggetti ma opzionalmente è possibile anche installare un frigorifero. E quindi cari amici questo è l'Italmar Walkaround 19 Plus. Come sempre se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al mio canale youtube e alla mia pagina facebook. Lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre per tutti i prossimi video ci vediamo sempre sul mio canale. Grazie a tutti.